Ciao a tutti amici del canale, bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi per portarvi un video molto carino e simpatico che sono felice di portarvi. Fantastico. Allora, sono stata contattata su Instagram da una pagina domande-per-youtuber che vi lascio scritto qua e vi lascio scritto anche nell'info box. Allora, questa pagina mi ha contattato dicendomi che hanno aperto da poco e che la loro idea è di fare delle collaborazioni con degli youtuber e di scrivergli dieci domande. Noi possiamo scegliere il tema. Io ho detto guarda, il mio canale è sull'equitazione, quindi fammi le sue liquidazioni che comunque è un'idea carina. Mi hanno posto dieci domande, io ne ho cambiata una perché, vabbè, ve la dirò, però gliel'ho fatta cambiare perché non so cosa rispondere a queste domande. Quindi niente, possiamo cominciare. La prima domanda che mi hanno fatto è perché hai iniziato ad andare a cavallo? Allora, questa è una domanda critica che fanno a tutti. Quando la fanno a me, cioè non c'è tipo una risposta bella perché praticamente mia mamma, quando avevo sette anni, la prima settimana di settembre, quindi una delle ultime di vacanza, mi hanno mandato con delle mie amiche a fare una settimana a La Busana, che è un allevamento di cavalli arabi e anglo-arabi in provincia di Piacenza, a fare questa settimana di settimana verde, che io ho amato e sono tornata per i successivi sette anni, dove praticamente mi hanno fatto montare una settimana, vi lascio una foto adesso, di me con questa cavallina che si chiama Melis. E niente, la mia passione è nata così, io mi sono innamorata di questo posto, di tutto, perché io poi amo la natura, cioè mi trovo davvero bene in natura, cioè potrei vivere in natura letteralmente. E niente, è nata così la mia passione. La seconda domanda è, quali erano le tue aspettative? Appunto io avevo sette anni, non mi ricordo niente, io di quando avevo, tipo dai sette anni in giù, io non mi ricordo assolutamente niente, non so perché la mia memoria è vuoto più totale, quindi non so se avevo delle aspettative, cosa pensavo, non so neanche qual era la mia opinione sui cavalli, in realtà proprio non mi ricordo, quindi boh! La terza domanda è, cosa pensi di diverso da quando ho iniziato a fare guidazione ad ora? Allora, di nuovo io non mi ricordo molto. Allora, quando io ho iniziato appunto in questo posto, questo allevamento che si chiama la bosana, loro praticano endurance, però ovviamente i bambini, io ero una piccolissima bambina, mi ricordo che davvo le gambe e prendevo il sottosella, sicuramente il cavallo non si attiva niente, però... Quindi loro praticano endurance, però ovviamente i bambini non è che fanno fare endurance, anzi, non faceva molto, ne ho fatto delle passeggiate che io ho amato, però probabilmente non avrei mai pensato di arrivare a fare salto ostacoli, cioè probabilmente non si può neanche che cosa fosse. Non so cosa pensavo da piccola io di liquidazione, veramente sarebbe da scoprirlo. Come faccio non lo so, quindi non sapremo mai cosa è cambiato. Probabilmente ho migliorato il mio modo di montare, sì. Assolutamente sì, perché ho rivisto poco fa i video da piccola e... Oh mio Dio, che trauma! E vi lascio nella i, che non so dov'è, somewhere, uno di questi due, se vorreste un video in cui reagisco, perché ogni volta le mie reazioni sono diverse. Ma è da piccola a cavallo, quindi fatemi sapere se lo volete, vorreste vedere questo video, fatemelo sapere anche nei commenti. La quarta domanda è qual è la prima cosa che hai pensato quando hai visto Domino? Allora, in questa risposta voglio essere molto, molto, molto sincera. La prima cosa che io ho pensato quando ho visto Domino è stata Oh mio Dio, è uguale a Biondo. Cioè vi giuro che è stato tipo la prima cosa. E mi sono un attimo spaventata perché ho detto, cioè con Biondo io tutto il bene che gli ho voluto, però non è stato tipo un grande pony che mi abbia insegnato cosi e così. Cioè, nel senso, è stata un po' un'esperienza traumatica. Quindi non ho subito pensato bene, ecco, non mi sarei mai aspettato che quel ciccione sarebbe diventato il mio cavallo. La quinta domanda è come chiameresti il tuo prossimo cavallo? Allora, prima di tutto voglio rispondere a questa cosa che mi chiedete in tantissimi. Non ho dato io il nome a Domino, si chiama così, si è sempre chiamato così. Non gliel'ho dato io. Mi piace moltissimo e mi piace un sacco come gli sta Domino. E non ho idea di come chiamerei il mio prossimo cavallo, anche se probabilmente non dovrei dargli un nome. Però se dovessi dare un nome a un cavallo, mi piacerebbe darlo con, diciamo, il cognome, tra virgolette. Cioè non solo Domino, ma ad esempio Domino d'Arsolo, cioè che è tipo il cognome del padre. Mi piacerebbe molto che ci fosse un altro pezzo. Non so, davvero è troppo corto. Però, tanto, non devo dare un nome a un cavallo, quindi non ci sono questi problemi. La stessa domanda è, pensi di prendere anche il secondo grado? Allora, prima di tutto devo prendere il primo, quindi calma. Secondo grado non penso, perché comunque col primo grado arrivi a fare le 35. Cioè, prima che arrivo a fare le 35, faccio un tempo a morire, rinascere, rimorire, rinascere, rimorire, e forse, forse, prenderò tutti i punti per il secondo grado. Però, onestamente, non è la mia ambizione prendere il secondo grado. Cioè, non è che ho bisogno, per mia cosa personale, di arrivare a fare i gran premi, mille cose. Non è il mio obiettivo nella vita. Quindi, penso che non avrò la necessità personale di prendere il secondo grado. Non so, sei sospiegata. Comunque, col secondo grado si può saltare dalle 140 comprese in su. Perché col primo grado si arriva fino alle 135 in gara. La settima domanda è, cosa pensi quando ti ricordano che per andare avanti probabilmente dovrai cambiare cavallo? Allora, prima di tutto, tu, persona, che vorresti fare questa domanda, qualsiasi persona, ho detto persona troppe volte, che fa equitazione, tu non farla questa domanda. Perché questa domanda, la prima volta che mi è stata posta, probabilmente ci ha riflettuto una cosa tipo una settimana di fila, che è tanto, perché è brutto da pensare. Vi assicuro che è davvero brutto. Io adesso domino ce l'ho da più di un anno ed è brutto pensare a quando non sarà più con me. Quindi, non fate questa domanda. Cioè, non fatela. Comunque, io so che accadrà. Sono, non sono pronta. Sarò pronta. Non sarò, no, non sarò pronta. Comunque, so che accadrà, dovrà accadere. Non sarò felice di lasciare il mio ciccione. Però, so che accadrà e basta. Niente, punto. L'ottava domanda è, cosa hai pensato quando hai visto i risultati che raggiungevi su YouTube? Allora, piccola parentesi. Oh mio Dio. Io sto registrando questo video di martedì, ok? E siamo a... Fermi tutti. 3532 iscritti ed è martedì, sabato, mattina. Sembrava che è 3000. Questi 532 iscritti favolosi, da dove sono usciti? Cioè, io vi giuro che sto aumentando una velocità che è inquietante. Cioè, io veramente... No, non mi rendo conto di 35... Aspetta, non mi ricordo già più il numero. 3532 persone che mi fissano mentre parlo. Cioè, è inquietante. Fantastico. Che poi questi sono solo gli iscritti, perché le visualizzazioni sono molto di più. Quindi, sì, questa cosa mi inquieta, ma sono molto felice che appreziate il mio faccino meglio. Appreziate questo ciccione con la sottoscritta sopra e soprattutto quando vi rompo le scatole vi faccio i video in cui parlo che probabilmente non ve ne frega niente, ma... Sì. E quindi sono troppo felice di raggiungere questi risultati. La nona domanda è... Quando qualcosa tra te e Domino va male, ti è mai passata per la testa l'idea di cambiarlo? Allora, se devo essere onesta, con Domino no. Con Domino sarà perché l'ho comprato, mentre la Mandy e Biondo erano in fida e in mezza fida. Con Domino però non mi è mai passata per la testa l'idea di... Ok, non lo voglio più, non è più il cavallo per me. Diciamo che ho pensato spesso di perché non riesco, perché io non riesco a fare questo, perché è così difficile, perché quest'altra persona riesce a fare questo e io non ci riesco, perché il mio cavallo è così forte in bocca, perché il mio cavallo mi trascina per terra, perché quell'altra persona riesce a metterlo tondo in mezzo secondo e io non ci riesco in un'ora. Ecco, mi capitano questi pensieri molto spesso, però no, cambiarlo... cioè, non sono mai arrivata così in fondo. Cioè, o anche comunque quando penso perché io non riesco, do sempre la colpa a me. Molto spesso. Molto spesso. Quindi non è mai un dire, è colpa di Domino, devo cambiarlo, ma è un, ok, perché io non riesco a lavorare Domino? Perché non riesco a fare questa cosa? Non è mai, ok, è colpa di Domino? Molto spesso. Allora, la decima domanda che loro mi avevano fatto è, marca preferita di articoli d'equitazione? Come molti sapranno, io non so mai cosa rispondere a queste domande, perché non ho una marca preferita. O una canzone preferita, un film preferito, o niente di preferito, perché non lo so, non ho molte cose preferite. Quindi, le ho fatto scusami, ne puoi fare un'altra, perché non so mai cosa rispondere a questa. Quindi me ne sono fatta fare un'altra. E la decima domanda è, i ricordi più belli con il tuo cavallo? Allora, io assolutamente voglio farvi un video su il ricordo più bello in assoluto che ho con Domino, che è una cosa stra-semplice, nel senso che non è la vincita del campionato del mondo, che è stata un'emozione fantastica, no, è una cosa davvero semplicissima, ma che mi è rimasta troppo nel cuore e che porterò per sempre. Però vi giuro, è davvero una cosa stra-semplice, cioè non è la grande cosa che allora tutti, oh mio Dio, mi ricorderanno per questo, no? Anzi, ero da sola con Domino, quindi... È una cosa che ho io nel cuore, che vi farò assolutamente un video a riguardo, quindi non risponderò in questo video. E quindi niente, io vi ripeto che la pagina si chiama così, Domande per YouTube. Ve la lascio nell'info box e andatela a scrivere su Instagram, perché... Sì. Semplicemente così. Io spero di avervi intrattenuto con la risposta a queste dieci fantastiche domande molto interessanti e sappiate che presto organizzerò un video Ask molto molto carino. Voi non fatemi le domande qua sotto perché ve le chiederò in un modo speciale, quindi non lasciatemelo qua sotto. Cioè, se mi volete lasciare una domanda, per carità vi rispondo, ma vi rispondo nei commenti, non vi rispondo in un video, perché lo voglio organizzare in un modo un po' speciale. Quindi, se vi è piaciuto questo video lasciate un pollicione in su e... Se vi è piaciuto questo video lasciate un pollicione in su, iscrivetevi e attivate la campanella. Lasciatemi un commentino qua sotto dicendomi se vi è piaciuto questo video. E noi ci vediamo molto 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 presto. Ciao!